Ehm, ciao! Oggi siamo trovati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi ci troviamo nel bel mezzo del nulla sopra un unico blocco che dovrebbe essere invisibile ma in realtà è del glass che in parte è comunque invisibile E quest'oggi proveremo ad affrontare tutte queste isole che tra l'altro al momento sono anche nascoste per riuscire in qualche modo a finire il gioco e oh, cosa c'è lì sopra? Ma sbaglio quello è un mi piace, forse perché lo dovete lasciare un mi piace e iscrivervi al canale? Sì, probabilmente è per quello Comunque cacate a parte, questo blocco di vetro che abbiamo qua sotto nel momento in cui lo andremo a spaccare riceveremo un sacco di cose che la metà cadono nel vuoto e questo lo possiamo appurare bene Però nel momento in cui andiamo a creare una piattaforma intorno al nostro piccolo blocchettino, magari non di gravel perché sennò cade, riusciremo a salvare piano piano tutti i nostri materiali E sono veramente tanti, abbiamo cibo, abbiamo blocchi di costruzione, potremmo fare anche una casa ma non ne ho voglia quindi non la faremo Tra l'altro oggi mi sono svegliato contento perché ho fatto colazione salata, finalmente lo dico, io sono del team colazione salata Se a colazione preferite mangiare del dolce piuttosto che il salato, secondo me avete qualcosa che non va No ovviamente sto scherzando, sono gusti, però personalmente io amo fare le colazioni salate tipo con, non lo so, o con una pizzettina quelle che compri O al bar, o nei supermercati, o in panificio, dove volete, o comunque con un pezzo di pane e magari un affettato del formaggio, del fila d'affia Una cosa un po' il salato, il dolce a colazione, non lo so, non ci tiro troppo Allora intanto comunque dobbiamo anche portarci avanti la nostra progress, di conseguenza mi faccio un piccaums E ora, and then, scusatemi, I need to speak in english Devo avvicinarmi alla prima isola, ovvero quell'isola là E iniziamo facendo un ponte veramente basilare di slab perché almeno consumiamo meno materiali Oppure sapete cosa, tornando al discorso colazioni, se non c'è una colazione salata, una colazione che posso accettare dolce È un frutto tipo, tipo ultimamente a colazione mangio un pezzettino di banana Oltre a quello, oltre magari a un morso di pizzetta, mi mangio anche un po' di banana perché Boh, fa bene a qualcosa, credo, non credo abbia potassio, qualcosa c'è comunque nella banana Ma ora, discorso colazioni a parte, io direi di approcciare la nostra prima isola In cui mi sembra di vedere che c'è una sorta di villaggino, una sorta di abitazione Una sorta di qualcosa, insomma E mi auguro che ci siano anche delle cose utili per la nostra avventura contro il drago Perché al momento, sì, abbiamo del ferro, abbiamo della legna Ma per sconfiggere un ender dragon non penso che ferra, ferra, ferra e legno bastino Voilà, buongiorno mondo, come va questo villaggino? Salve, non avete lavori? Assolutamente no! È tipo un totem questo coso, è il dio dei villager Non so se lo voglio... Va bene, non so neanche se voglio sapere perché lì dentro ci sono dei mob Allora, letto ce lo prendiamo, che può tornarci comodo Glass armor, che in realtà sembra un'armatura in nederite normalissima Non dito da nessuno Però, boh, non so neanche che incantesimi abbia Magari è molto forte Qui invece che cosa abbiamo? Stiamo depredando dei villager Glass armor, rigambali, ok? Qua ci prendiamo tutto, anche se non credo che useremo mai tutte queste frecce Però vorrei capire come sbloccare l'isola successiva E credo proprio che... Aspetta 10 secondi per sbloccare la nuova isola Allora, intanto abbiamo anche la glass sword Il silver pickaxe, che c'è scritto che scava un 3x3 E una machine gun Prendiamoci tutto Isola sbloccata, molto bene, sono contento di ciò La machine gun c'è scritto che dovrebbe Si ricarica da sola ragazzi, non sto facendo niente Carina Questa, questa mi piace assai E invece il piccone sfonda case Molto, molto bene Salve golem, lei vuole donarmi il suo ferro? Danger golem Vediamo se la spada... Non è molto forte questa spada In compenso l'armatura Sembra essere molto resistente Perché ho preso due quagli e mezzo di danno Quando in realtà dovrebbe togliermene, credo, molti di più Non so quanti di preciso Ho fatto anche questo ponte Ma lì è apparso qualcosa che non volevo vedere Però, prima noi andremo a scavare in miniera E un altro discorso che volevo aprire con voi Sempre riguardante a sto punto il cibo Perché ormai siamo sulla questione colazione dolce o salata Ma vorrei aggiungere anche un altro quesito Che spesso mi pongo Anche se in realtà io la mia risposta ce l'ho già Ovvero dell'acqua frizzante o dell'acqua salata Perché io... E vabbè, ma che cosa ho appena detto? L'acqua salata, che cos'è? L'acqua di mare, si beve? Vabbè, scusate È prima mattina un po' per tutti Sto coso però è vero che scava il 3-3 Prendiamoci un po' di diamanti Comunque, il mio dilemma è Voi preferite l'acqua frizzante o l'acqua naturale? Perché ogni volta che vado al ristorante A una cena Con chiunque Perché con chiunque Ci sono sempre due fazioni E come va a finire è che si prenda sempre Un'acqua frizzante e un'acqua naturale Poi cosa succede? Che una delle due avanza sempre Io ovviamente Bevo praticamente... Lì non ci andremo Bevo quasi praticamente soltanto quella naturale Perché quella frizzante non mi piace particolarmente Quindi ora sono curioso nei commenti di sapere Perché si chiede sempre Ma te ha la pesca o te ha il limone? Io invece sono curioso di sapere Acqua frizzante o naturale? Perché tanto il tè sappiamo tutti che è più buono Quello al... Ma sei così scarso bro Vabbè Comunque il tè sappiamo tutti Che è più buono quello Alla pesca Di conseguenza non c'è neanche da fare questo discorso Credo che io debba aprire quella cesta lì Però Devo fare il parkour Per arrivare in quella zona Non è complicato Credo No Uno E due E tre E al primo colpo Voilà Wait dieci secondi Per sbloccare la nuova isola Ok Intanto io mi depredo questa cesta Facendo Allora Che cosa abbiamo? Glass armor E siamo praticamente full glass armor Poi abbiamo delle mele Abbiamo un Du bridge Che credo Ci dica di fare un ponte con questa pozione Ma ho paura per la mia vita E si è sbloccato una nuova isola Che è Quella lì a forma di zombie Ho visto bene Scusatemi un attimino Sì Ma c'è anche un gigante lì dentro Però io sono temerario Sapete che mi bevo la mia pozione Du bridge Per far vedere che so fare un bridge Con la pozione A posto Bevuta E pronti Guardate che God briger Guarda Guarda che forte Oddio È fortissimo Non ne sbaglia uno Non ne sbaglia uno In realtà non sbaglio perché l'ho shift premuto Oddio Sto per arrivare Ma con quale velocità È super sonico È un fulmine È un razzo È un missile Siamo arrivati Non ci sono più i giganti Eeeh Questo succede quando Non lo so Insomma I giganti Sono disponati Ma abbiamo comunque il nostro Parkourito Che possiamo fare Per arrivare a qualcosa Lassopra Dove suppongo E spero che ci sia qualcosa Di più utile Rispetto Alla chest precedente Se mi arrabbio Sappiate che Se mi arrabbio Sappiate che Inizierò a piazzare Dei Dei blocchi In modo tal Ok Questo era per liberare Le cose negative Nella mia mente Ci provo L'ultima volta Ma è la speed Sapete È la speed Diamo la colpa Alla speed Perché sono troppo veloce E il mio cervello Non riesce a A elaborare questi spostamenti Invece ce l'ha fatta Attenzione Wait 10 seconds To unlock New island E abbiamo Delle mele d'oro Abbiamo un secchiello Per fare Per fare water clutch E cosa posso lasciare Che non mi serve La redstone Una città in glass Che non so bene Cosa sia E poi Un jetpack Ok Io ho capito Ho capito Quindi devo prendermi Il secchiello d'acqua qua E fare il water drop Qual è che l'isola Si è sbloccata Quell'isola là Allora Proviamo a fare Una cosa un po' Estrema Jetpack Ora Devo essere bravo Devo fare un water clutch Però senza andare troppo in alto Cambiamo piedini Ogni tanto Così che rimaniamo Più o meno su questa Lunghezza d'onda Senza cadere troppo nel void Magari Dov'è che sarebbe l'ingresso In questa zona? Dov'è la porta? È lì Ok Quindi io faccio Una cosa di questo tipo E faccio così Easy Ragazzi Ma proprio Un gioco No sbagliato Vabbè Insomma Ciao Ho un labirinto Bene Un labirinto Bene Altra cosa che odio Sono i labirinti Questo perché Io credo che Non ci siano delle skill In un labirinto Credo che i labirinti Siano completamente A cubo Adesso magari questo no Perché qui abbiamo i vetri invisibili E possiamo capire più o meno Qual è la direzione giusta Però i labirinti Sono una cosa che vanno solo Unicamente a fortuna Per quanto sia un amante di Maze Runner Bellissima serie Anche se nel labirinto Se ne parla soltanto nel primo Salve Voi siete cattivi? Ok siete cattivi Comunque Maze Runner Bellissima serie Per carità Però secondo me Nei labirinti Va tutto a fortuna Ci sono quelle teorie In cui si dice Che se tieni la mano destra Attaccato al muro Prima o poi Arriverà il traguardo E io ti dico Sì Ma dopo quanto Non fai prima Di andare a caso E sperare che la vita Sia gentile con te Sì Ma nella Big Vanilla Non è stato così Allora Nuova isola sbloccata Che è tra l'altro Quella lì dove c'è lo slime Suppongo E qui abbiamo Una Glass Che è una zappa Che ha knockback 80 Non so bene A che cosa mi possa servire Ma la prendiamo Ho talmente totem Che posso probabilmente Aprire una Azienda Che ne vende Ne fabbrica degli altri Un enderai Che suppongo Ci servirà per il portale E Per il resto Secondo me Possiamo andare Magari mi tengo questi Anche se l'enchanting table Non la posso fare Perché non ho La La obsidian Mannaggia a questo piccone Che non spacca il vetro E direi che possiamo Recarci là Ma Lo slime non era più grande Un attimo fa Credo di essere confuso E lì c'è il portale Dove manca Un occhio Quindi noi abbiamo Un occhio Slime Io non ho capito Perché vi siete rimpiccioliti In realtà Se c'è una spiegazione Sarei curioso di Di sentirla da voi Ok Atterraggio perfetto Mamma mia Ottimale Salve Salve Sì voi siete Gelatinosi Voi rimbalzate Però siete anche Veramente grossi E fate anche Veramente tanto danno Siete la cosa Che mi sta facendo Più danno Aia 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 Si chiamano Slime boss Effettivamente Fanno più danno loro Che tutti gli altri Mob che abbiamo Affrontato quest'oggi Ma il loro danno È finito Non potete farmi nulla Voi piccoli slimettini No siete completamente Inutili E uditezzerò Le vostre slime ball Per fare lo slime Come andava di moda Nel 2016 Su youtube E me le prendo pure Sapete Portiamocene dietro Non si sa mai Che poi ogni volta Che provavo a fare Quelle ricette degli slime Non mi venivano mai Che volete Anche io ero piccolo Nel 2016 Anche io volevo fare Queste cose E gli slime Dato che non mi venivano Finivo per comprarli Tipo quelli degli Quelli che trovavi In edicola Se non ricordo male Anche in edicola Ho speso veramente Tanti soldi Con tutte le cose Che compravo da piccolo Ma oggi Dobbiamo vedercela Col drago Non con gli edicolanti Della mia città Quindi let's go E lì abbiamo Il nostro dragone infernale Ora devo fare un ponte Per arrivare Dal nostro dragone infernale Dai non iniziare a spararmi Sei gentile Col prossimo Però effettivamente Ho un jetpack ragazzi Ma perché sto facendo Questa cosa Se ho un jetpack Andiamo a sfondare Tutti gli end crystal Con questo jetpack Che non ci sono Bene Allora vorrei dire Che faremo una battaglia Aerea Con il nostro Dragone infernale Non so quanto Non gli faccio Molto danno però Non so se è una battaglia Aerea 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 Una battaglia Porca miseria Ho un letto Potrei utilizzare anche questo letto Magari lo uccidiamo con il letto Mi mangio anche una mela OP Giusto per Così Giusto per essere Superiore a lui Dimostrare la mia Potenza Con questa Sto andando un po' troppo in alto Forse Devo tornare un po' Con i piedi per terra Ok Il danno non subito A differenza del drago Che il danno lo sta subendo Anche se in realtà Questo oggetto è veramente sgravato Devo dirvi la verità Forse Se avessi anche qualche incantesimo Per aumentare la forza Magari Però Capisco che non si può avere tutto nella vita E comunque Se lo colpisco con tre frecce Il danno lo subisce Come Sto salendo un po' troppo Torniamo qui nei piedi per terra E All'ultimo eh Eh bro Mi sa che da oggi Tu hai un nuovo Hai un nuovo posto Nel cimitero dei dragoni I dragoni infernali Che non ci hanno creduto abbastanza Ciao ciao Eh eh Un giochetto da ragazzi Eh Un vero Stavo per morire Un vero giochetto da ragazzi Che è stato sconfitto Ma non ci sono neanche Gli endermen o sbaglio Ho appena notato che Effettivamente non ci sono endermen Ma questo è un Dettaglio secondario Ma secondo voi muoio Se faccio così? Vabbè Non muoio neanche così Sono veramente un mostro Un'armatura veramente Troppo forte E con tutti questi livelli Me ne torno Nel Overworld Ed eccoci qua Non abbiamo provato la zappa Con knockback Tanto Potremmo provarla su qualcuno Tipo Tipo Il gigante che non c'era prima Il gigante che prima Ed è spawnato No Si Si Eh Ok Funzione Ed è veramente forte Io vi dico che per oggi è tutto Lasciate like E iscrivetevi come dice Quella bellissima icona Sopra quella TNT E nulla Noi ci vediamo domani Con un nuovissimo video Buon Natale a tutti E felice Anno nuovo Anno nuovo Anno nuovo 10 . Sopra quella Tutta la TNT